Controlli straordinari disposti dalla questura, blitz congiunti dei poliziotti del commisariato e degli agenti della polizia locale e denunce per il reato di invasione di un edificio, in questo caso il Vittoria Colonna. Non c'è pace per l'ex convito di Fano, dove nei mesi scorsi più volte le forze dell'ordine hanno identificato uomini e donne, italiani e stranieri, entrati nell'edificio oggi di proprietà dell'Infimit SGRSPA. Nonostante le segnalazioni dei cittadini, si sono infatti ripetute le intrusioni in questa struttura, trovate in condizioni di sicurezza e igieniche estremamente precarie, sull'argomento è intervenuta più volte anche Fratelli d'Italia. Lo abbiamo già segnalato in corso di conferenza stampa il 31 di dicembre e posto che apprendavamo dalla stampa che la problematica era risolta proprio dalle parole dell'assessore Cuccherini, dove diceva che grazie all'ultimatum del comune la questione è arrivata al Campoligna. In realtà non è vero perché poi abbiamo assistito nei giorni successivi a continui blitz, quindi continui interventi delle forze dell'ordine, in una situazione di degrado e di decoro urbano senza precedenti, con illeciti che si consumano all'interno di quelle mura, laddove la proprietà privata a questo punto deve per forza necessariamente trovare un'incisività da parte dell'amministrazione comunale per risolvere questo problema. Siamo nel centro storico di Fano e quindi è una situazione assolutamente intollerabile. Lucia se ne discuterà quindi anche nel prossimo consiglio comunale? Sì, prossimo consiglio comunale passerà la nostra interpellanza, l'abbiamo già presentata qualche giorno fra, non è stata accolta l'urgenza e quindi rientra nel prossimo consiglio comunale. Noi chiediamo al sindaco di provvedere immediatamente con un'ordinanza di sgombero, anticipata con un'ispezione da parte delle autorità sanitarie, perché in quella struttura ci sono condizioni igienico-sanitarie indicibili e a tutela anche delle forze dell'ordine che comunque devono provvedere in maniera periodica al controllo della struttura è necessario assolutamente che si provveda a emanare un'ordinanza per lo sgombero totale perché è l'unico atto formale con cui finalmente si potrà risolvere la questione. Dietro l'ordinanza la proprietà dello stabile sarà costretta a sgomberare, dentro ci sono ancora letti, ci sono brande, ci sono materassi, quindi c'è gente che ci va a vivere perché ci sono gli strumenti per poterlo fare e dietro l'ordinanza potrà essere finalmente murato l'ingresso. Ricordiamo che è un problema che è di ordine pubblico perché chi vive nel quartiere è estremamente preoccupato da queste persone, è un problema educativo perché i bambini che frequentano la scuola Corridoni devono capire che nella nostra città non è che chiunque venga a fare qualunque cosa è ben accetto ed è soprattutto un problema di ordine sanitario perché purtroppo le forze dell'ordine già dall'inizio dell'anno sono già stati dentro tre volte, nell'anno precedente altre tre volte, quindi anche a loro tutela che dobbiamo assolutamente provvedere perché non è possibile che delle persone per il loro lavoro debbano poi camminare sulle deiezioni umane in condizioni igieniche assolutamente non accettabili.